Per Lusconi che si paragona Andreotti è comprensibile perché tra colleghi imputati poi Andreotti è l'unico politico che è riuscito a combinarne più di lui e a farla franca, ma la sinistra cosa ci trova in Andreotti? Napolitano è andato alla Camera Ardente, il Presidente del Senato Piero Grasso che fino all'altro ieri era procuratore nazionale antimafia è andato addirittura al funerale, cioè il giorno prima era all'esequie di Agnese Borsellino e il giorno dopo a quelle di Andreotti, prima il dovere e poi il piacere e adesso qualcuno trattiene il fiato perché pare che Provenzano si senta poco bene, speriamo che si rimetta altrimenti sai al prossimo funerale quanta bella gente, solo Umberto Ambrosoli si è rifiutato di omaggiare il Divo, forse perché non si è ancora trasformato in un politico di professione o forse perché si ricorda che Andreotti stava con Sindone e con la mafia mentre suo padre Giorgio era contro l'uno e l'altra e per questo fu ammazzato dalla mafia per ordine di Sindona, ma Ambrosoli è stato criticato da destra e isolato dal centro-sinistra perché tutti i politici considerano Andreotti il loro santo patrono e protettore, ne ha fatte di tutti i colori, si è sempre salvato, per loro è un portafortuna, una specie di motivatore anche perché dicono se l'ha sfangata perfino uno come lui, noi nanerottoli che per quanti sforzi facciamo non riusciremo mai a eguagliarlo, siamo a cavallo. Perciò ripetono come un mantra da anni la balla della soluzione, anche se si sa benissimo che era una prescrizione fino al 1980, proprio perché la finta soluzione di Andreotti è la soluzione di tutti i politici di oggi per quello che hanno fatto prima e per quello che devono ancora fare, urbi e torbi. Oltre alla statura diversa dei politici si dice che c'è un'altra differenza fra la prima e la seconda repubblica e cioè sarebbe la perdita dell'ipocrisia perché prima regnava il si fa ma non si dice, poi è arrivato Berlusconi e da allora vige il si fa e si dice pure. La Rochefoucauld diceva che l'ipocrisia è la tassa che il vizio paga la virtù e oggi si dice che si evade pure quella. In realtà non è proprio del tutto vero perché non è che Andreotti si nascondesse proprio o si circondasse di statisti, missionari, dame della carità. Insomma, già nel 1953 abbracciò ad Arcinazzo un criminale fascista come il generale Graziani. Nel 1972 esaltò Sindona come salvatore della Lira, incontrava abitualmente Gelli, se ne andava in giro con Salvolima, Ciancimino, Evangelisti, Pomicino, Sbardella detto Lo Squalo, Ciarrapico detto Erciarra, Giubilo detto Ermona, con Moschetti detto Erbiondo, Bonsignore detto Don Vito, Formigoni detto Formigoni. Era pure finito 26 volte davanti alla commissione parlamentare inquirente per i reati ministeriali, c'era proprio bisogno dei processi per capire che non era proprio uno stinco di santo. E poi siccome noi italiani siamo sempre più creduloni, negli ultimi anni Andreotti aveva cominciato proprio a confessare, quasi come una sfida, quasi per vedere, fino a dove gli italiani e i giornalisti italiani soprattutto gli avrebbero creduto. Intanto al processo di Palermo ha detto di non avere mai visto i cugini salvo, quando in Sicilia lo sanno anche le pietre che erano intimi, ma nessuno ha obiettato niente. Allora ha negato che Ciancimino e Lima fossero mafiosi, figuriamoci. Poi ha addirittura detto che Lima non l'ha ammazzato la mafia perché non rispettava più i patti, ma per il suo impegno antimafia, che è una versione che ricorda un famoso titolo di cuore, Lima come John Lennon ucciso da un fan impazzito. Nessuno ha fatto una piega, nemmeno stavolta Andreotti ci ha messo proprio un carico da undici e ha detto che negli anni 70 e 80 eravamo distratti dal terrorismo e abbiamo sottovalutato la mafia. Del resto fu dopo l'omicidio Lima, cioè dopo il 92, che la mafia diventò un problema clamoroso. Prima no. Prima la mafia aveva assassinato due procuratori capo, il capo dell'ufficio istruzione, una decina di magistrati, il capo della mobile, un colonnello dei carabinieri, due ex sindaci, il capo della DC, il capo del PC, il presidente della regione, il super prefetto, decine di poliziotti, carabinieri, centinaia di picciotti, ma non era un problema. L'avevano sottovalutato. Neanche quelle cazzate hanno sortito alcuna polemica. Allora tre anni fa Andreotti ha voluto proprio esagerare, ha giocato il tutto per tutto. È andato in tv e ha detto Ambrosoli è stato ammazzato perché se l'andava cercando. Dice vediamo se stavolta capiscono chi sono. Niente. Encefalogramma piatto. Silenzio di tomba. Quindi per favore smettiamola di dire che Andreotti era un ipocrita. Siamo noi che siamo un branco di coglioni. Perché avremmo potuto capire tutto. Lui ha fatto di tutto per farci capire chi era, ma nessuno lo ha voluto ascoltare per non dover ammettere che da decenni la politica italiana si regge sulle trattative fra lo Stato e la mafia. Smettiamola anche di dire che Andreotti si è portato tutti i suoi segreti nella tomba. Perché sono anni che cerca di farceli conoscere e noi non li vogliamo vedere. Se qualcuno un giorno mettesse le mani su quel mirabolante archivio che dicono che avesse probabilmente resterà deluso. Perché il peggio è già tutto nelle sue biografie non autorizzate e nelle sue sentenze che nessuno ha voluto leggere e nelle sue stesse parole che nessuno ha voluto sentire. L'ignoranza logora chi non ce l'ha e il coraggio se uno non ce l'ha non se lo può dare. In questi giorni ci sono impresari di pompe funebri impegnati in lavori di lingua e di penna sul Divo a dire che aveva visto nascere la prima, la seconda e addirittura la terza repubblica perché sono convinti che il governo Letta abbia proprio inaugurato la terza repubblica. Eppure quando la Cassazione confermò che Andreotti era stato mafioso fino al 1980 Enrico Letta festeggiò questo lieto evento alla presentazione del libro di Giulia Bongiorno che è l'avvocatessa di Andreotti insieme allo zio Gianni, a Cesare Romiti, a Pippo Baudo e ad alcuni altri teneri virgulti del nuovo che avanza e disse testualmente quante volte da bambino ho sentito nominare Andreotti a casa di zio Gianni non veniva nemmeno chiamato per nome, era la presenza venerata da tutti e io avevo una venerazione per questa icona, per questo modello poi sparse una lacrima perché Andreotti era stato perseguitato da un'ingiustizia poi sorrise di nuovo e disse il processo è andato a buon fine e siamo tutti qui a festeggiare uno che era stato mafioso fino al 1980 ecco davanti a tutte queste pompe funebri forse perfino Andreotti avrebbe detto ragazzi datevi una calmata una volta aveva dichiarato ma se i morti sono tutti buoni dov'è il cimitero dei cattivi? ecco per quanto cinico e ipocrita forse lo era un po' meno rispetto ai suoi espiranti eredi quando governava con l'appoggio dei comunisti è vero che la chiamava la non sfiducia però non è che negava di essere alleato dei comunisti lo rivendicava oggi il PD governa non con la democrazia cristiana governa proprio col PDL di Berlusconi ma fa finta di niente, cerca di passare inosservato fischietta Andreotti era un bugiardo, lo sappiamo ma non sarebbe mai passato nel giro di due mesi come il PD dal dire mai con Berlusconi a con Berlusconi ma solo per il Quirinale a con Berlusconi ma solo per un governo di scopo di sei mesi a con Berlusconi per un governo di legislatura e per la riforma della Costituzione forse persino Andreotti sarebbe presentato agli elettori e gli avrebbe detto ragazzi scusatevi abbiamo presi per il culo per l'ennesima volta però la prossima volta promettiamo che non lo facciamo più invece oggi è proprio il festival dell'ipocrisia la fiera del tartufo Berlusconi ministro non lo mettiamo e nemmeno Brunette la Germini però Alfano, Lupi e Quagliariello sì perché loro sono autonomi e indipendenti da Berlusconi poi mettiamo la bianco fiore alle pari opportunità a patto che non dia interviste se no si scopre che è omofoba poi lei dà un'intervista mezza omofoba e allora che si fa? La si sposta alla pubblica amministrazione che tanto è la stessa roba delle pari opportunità se non è zuppa e pan bagnato perché siamo tutti di un pezzo poi mettiamo Miciche, vice ministro che fra l'altro è pure un politico di grande fiuto ed ha delle piste a tutti proprio ma se dà un'intervista e ringrazia i suoi spiriti guida che sono Dell'Utri e Lombardo allora tutti che si indignano come se l'uomo di Lombardo e di Dell'Utri potesse ringraziare, non lo so, Einaudi o De Gasperi poi votano presidenti di commissione un piduista e cicchito agli esteri la russa alle immunità Matteoli alle comunicazioni Formigoni che è pure imputato all'agricoltura Capezzone alle finanze perché è proprio un tecnico, un esperto Elio Vito alla difesa Sacconi al lavoro Galan alla cultura però Nitto Palma alla giustizia no perché è amico di Previti come se uno del PDL potesse essere amico di madre Teresa di Calcutta e allora sprezzanti del pericolo cosa fanno? Votano scheda bianca il massimo dello sforzo e soprattutto mai Berlusconi a presidente della convenzione per le riforme costituzionali perché è vero che quel posto spetta al PDL visto che il centrosinistra con il 29% dei voti si è pappato presidenza della Repubblica del Senato della Camera e del Consiglio però Berlusconi non va bene teniamo duro ci dia lui un nome autorevole e non divisivo che ne ha così tanti intorno si parla di Schifani che è ancora indagato per mafia tra l'altro quindi meno divisivo di lui si muore se però poi lo condannano in appello come è avvenuto ieri per frode fiscale allora tutti zitti perché sennò poi Berlusconi si incazza e fa cadere il governo davanti a tanta ipocrisia Andreotti l'altro giorno deve essersi detto vabbè lascio l'Italia in buone mani questi allievi stanno superando il maestro e ha chiuso gli occhi sereno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti